Diritto internazionale privato, video lezione di aggiornamento al 29 settembre 2016. La legge 76 del 2016 sulle unioni civili ha inserito l'articolo 30 bis all'interno della legge sul diritto internazionale privato, ovvero sia la 218 del 95. In particolare, ai sensi dell'articolo 30 bis, ai contratti di convivenza, si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali, che regolano il caso di cittadinanza plurima. Vi segnalo altresì un'importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione prima civile, ovvero sia la numero 15.343 del 2016. La Suprema Corte con questa sentenza ha stabilito che il matrimonio celebrato attraverso Skype, secondo le forme e le modalità previste da un ordinamento straniero, non contrasta l'ordine pubblico italiano. Pertanto, dovendosi intendere il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento, che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi, principi costituzionali inderogabili. Nel caso esaminato della Suprema Corte, l'ufficiale dello Stato civile aveva rifiutato di trascrivere l'atto di matrimonio celebrato via Skype e registrato dall'autorità del Pakistan. Il diniego era stato impugnato da uno degli sposi dinanzi al tribunale, il quale in accoglimento del ricorso aveva ritenuto valido per la legge pakistana e quindi anche per l'ordinamento italiano, il matrimonio contratto secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge di quel paese. La Corte di Appello ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero dell'Interno, invece la Suprema Corte, nel confermare il provvedimento della Corte territoriale ha osservato che ai sensi dell'articolo 28 della legge numero 218 del 95 il matrimonio celebrato in Pakistan è validamente celebrato secondo la legge di quel paese, deve considerarsi valido anche per l'ordinamento italiano, nonostandovi alcun principio di ordine pubblico.